buongiorno a tutti e benvenuti a questa meditazione mattutina good morning and welcome at this morning meditation ci alziamo tutti insieme la kundalini e ci diamo sette bandana we all together rise the kundalini and take bandana mettiamo l'attenzione sul nostro muladhara chakra e diciamo il mantra shiganesha we put our attention on our muladhara chakra and take the mantra to shiganesha om vameva sakshat shri ganesha sakshat shri adi shakti mataji shri nirmala devinamunam om namaste danahataye va viva pratyaksham tattvamasi va viva pratyaksham tattvamasi va viva pratyaksham tattvamasi un portrayal di narvasi va viva pratyaksham tattvatthreaksham tattvatth Ritam Vachmi Satyam Vachmi Abha Atmamam Abha Bhattaram Abha Srotaram Abha Dhataram Abha Dhataram Abha Nursanam Abha Shisham Abha Paschatat Abha Purastat Abho Taratat Abha Dakshinatat Abha Chodvatat Abha Dharatat Sarvatomang Pani Pani Samantat Vambang Mayas Vam Chinmaya Vamananda Mayas Vam Brahma Mayas Vam Satchitananda Dvidyosi Vam Pratyaksham Brahmasi Vam Jnana Mayo Vidyana Mayosi Sarvam Jagadidam Kvato Jayate Sarvam Jagadidam Tvatastishtapi Sarvam Jagadidam Tvai Laya Mishapi Sarvam Jagadidam Tvai Pratyeti Vam Bhoomi Rapo Analo Anilo Nabaha Vam Shatvari Makpadani Vam Gunatrayati Taha Vam Deha Trayati Taha Vam Muladharas Kvitosvi Nityam Vam Shakti Trayatmakaha Vam Yogino Jayanti Nityam Vam Ramas Vam Vishnus Vam Rudras Vam Indras Vam Indras Vam Agnis Vam Bayus Vam Suryas Vam Chandra Vam Brahmapur Bhuvahaswarom Garnadim Purvam Uchcharya Varnadim Tadanantaram Anusvaraha Parataraha Ardhen Dulasitam Tarenarrutam Eta Tava Manusvarupam Garkaraha Purvarupam Akaro Madhyama Anusvaras Chantyarupam Bindurutara Rupam Nathasandhanam Sahita Sandhi Saisha Ganesha Vidya Ganaka Rishihi Nishrat Gayatri Chandaha Ganapatir Devata Om Ganapataye Namaha Eka Dantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tannodanti Prachodaya Eka Dantam Chatur Hastam Pasha Mankushbhaninam Pradam Chavaradam Hastayavivnana Musadvajam Raktam Lambodaram Shurbakarnakam Raktavasasam Raktavagandhanu Liptangam Raktavushpay Supujitam Vaktanu Kampinam Devata Grazie per la visione 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 Omaggia colei che è la forza vitale dell'universo Omaggia colei che è il potere di elevare e far evolvere la creazione Omaggia colei che è soddisfatta nell'espressione dello Spirito Supremo Omaggia colei che è il fondamento e sostegno della creazione Omaggia colei che è l'auspichevole punto che santifica questo universo Omaggia colei che è la determinazione in questo universo Omaggia colei che è la determinazione in questo universo Omaggia colei che è l'essenza di questa creazione Omaggia colei che è l'essenza di questa creazione Omaggia colei che è l'essenza di questa creazione Om Shri Swaiyambu Kusuma Priya Namu Namaha Omaggio a Kolei la cui mente è completamente intenta a gioire di questa creazione. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Namu Namaha Omaggio a Kolei che sostiene tutta la creazione. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Omaggio a Kolei che è la grande famiglia delle anime realizzate. Om Shri Swaiyambu Kusuma Kulana Lashomata Manasa Omaggio a Kolei la cui casa è il cuore delle anime realizzate. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Omaggio a Kolei che risiede nei chakra. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Omaggio a Kolei che si impegna per il bene di tutte le creature. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Omaggio a Kolei che è la creatrice dell'universo. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Omaggio a Kolei che è la protettrice di tutta la creazione. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Omaggio a Kolei che è la forza e la perseveranza delle anime realizzate. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Omaggio a Kolei che è la fioritura dei chakra dopo la realizzazione del sé. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Omaggio a Kolei che è l'unione delle anime realizzate. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Omaggio a Kolei che è la natura chiara e indisturbata che le realtà sottostante. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Omaggio a Kolei che è la saggezza che viene dalla venerazione. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa Omaggio a Kolei che è la protettrice dei generosi. Om Shri Swaiyambu Kusuma Dhanala Lashomata Manasa 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 Omaggia con lei che è il flagello di coloro che disprezzano il Supremo. Omaggia con lei che dona ogni bene alla creazione. Omaggia con lei che è la benefattrice dell'universo. Omaggia con lei che dona con sicurezza. Omaggia con lei che ama la sua creazione del tempo. Omaggia con lei che crea tutti i tempi e le ere. Omaggia con lei che genera l'origine di tutti i tempi. Omaggia con lei che è il sorgere di tutti i mondi. Om Shri Sarvalokubavodava namunamaham. Sapshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devina Munamaham. Omaggia con lei che è il nostro corso. Omaggia con lei che è il nostro corso. Omaggia con lei che è il nostro corso. O 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 che è il nostro corso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.